...Nicolotto Mia Danielli Si preparano Pantozzi Fabio e Marucci Ciro Prossimo incontro si preparano Simone e Rosanna Aliberto e Maria Vince Tarantini Giordano Prossimo incontro alla parte 5 Si preparano Pantozzi Fabio e Marucci Gli attascoli sul tagliato incontro di Reducero Ragone il Cardinale Prossimo incontro Prossimo incontro Blocca la manica, blocca la manica Vince Cardinale Sul tagliato Mujer Medi e Cianco Ok Quindi di più la presa e cambia col testo Medico da cani 5 Non seguirla Lavora, lavora, lavora Dottore da cani 5 Lavora al collo, capire, lavora ancora al collo Capire? Lavora al collo, capire, lavora, 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 lavora Capire? 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 No, se non è Capire? Soltatami, Bojan Medi, Keiran E Ciancer, mattano gli altri Si è fatto niente, si è fatto... Estolo mossa Si è l'azione del Capire? Si è l'intensi Si è l'importante Capire? 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 Com'è una gioia?